Buongiorno 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 è rimasto in questi vecchi contadini il ricordo di un lontano incontro era appena finita la guerra e un giovane tenente dell'aviazione americana di passaggio da queste parti sentì il desiderio di venire a conoscere i parenti lucani i fratelli, le sorelle dei suoi genitori, i suoi cugini era Rocco Petrone che dopo quell'incontro, puntuale ha mandato tutti gli anni gli auguri di Natale è incredibile il cambiamento che può portare nel destino di un uomo l'educazione e un ambiente favorevole da contadino povero del sud a direttore del progetto per la conquista della luna in una sola generazione l'ingegnere Rocco Petrone è il capo del programma Apollo alla NASA ingegnere Petrone secondo lei quali saranno i benefici che ognuno di noi trarrà dalle attività spaziali quando Colombo partì alla scoperta del nuovo mondo qualcuno gli avrà sicuramente detto ma perché vuoi andare così lontano? quando i fratelli Wright costruirono l'aeroplano delle persone rispettabili dissero che l'aereo era soltanto un giocattolo per persone ricche invece oggi, grazie all'aereo il mondo è molto più vicino oggi uno può trovarsi negli Stati Uniti e nel giro di otto ore essere a Roma penso che ciò abbia contribuito a rendere il mondo più utile migliore pensiamo al telefono che dà la possibilità a due persone di parlarsi a distanza non avevamo il telefono perché si doveva inventarlo? oggi, senza telefono il mondo non esisterebbe per queste ragioni io considero lo spazio come un grande laboratorio alcuni benefici ottenuti dallo spazio sono già visibili oggi prendiamo ad esempio il campo della meteorologia le previsioni del tempo i satelliti meteorologici sono la prova lampante di questi benefici l'uomo è così in grado di capire e conoscere meglio il suo mondo capire che cosa sono le nubi il calore ciò che mi ha maggiormente colpito sono le comunicazioni pensate ai benefici derivanti dai satelliti per le comunicazioni e non siamo che all'inizio io credo che lo spazio offra al mondo una speranza di pace credo che se la gente considerasse il mondo senza le frontiere create dall'uomo se lo considerasse semplicemente un mondo creato da Dio penso che impareremo a vivere meglio e più uniti pensando ancora più in là alla luna e ancora più lontano vedo la luna come un posto dove l'uomo può costruire delle basi per conoscere meglio l'intero universo ci si domanda perché perché è stata la prima domanda dell'uomo guardando il cielo e vedendo le stelle guardando questa immensità avrà detto perché come superando milioni di anni siamo arrivati a ciò che siamo oggi personalmente non credo che l'evoluzione dell'uomo sia finita penso che secondo l'evoluzione naturale che ci è stata donata dal creatore l'uomo continuerà a chiedersi perché come e di conseguenza si evolverà sempre più oggi penso ai sogni del futuro come a dei sogni ma i sogni di oggi potranno essere la realtà di domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.